Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 4 settembre 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Bagnetto rilassante contro le contrarietà. Che bellezza fare il bagno all'alba, una volta lo facevano solo i nordici, l'acqua era fredda, ma ora col surriscaldamento è diventato normalità, meglio alle 6 del mattino che a mezzogiorno, quando rischiate di sentirvi uova poste sul fuoco a rassodare. Questa è infatti l'impressione ricevuta dal passaggio lunare in leone nel punto più alto del vostro cielo, per giunta stuzzicata dai fuochi inferi di Plutone che le si oppone. Come sempre i vostri luminosi programmi vacanzieri, magnifici itinerari, cene sontuose, in famiglia trovano subito contestazioni, il partner, subillato da Aurano, si improvvisa basti al contrario, se poi di mezzo ci si infilano anche i parenti si salvi chi può. In amore presto riporterete una vittoria importante, un riconoscimento, un risultato importante. La vostra situazione sentimentale migliorerà e saprete ritrovare gli antichi sapori del sentimento e della tenerezza. Buone prospettive per i single che potrebbero incontrare l'amore, ma riportare vittoria in tutti i campi come quello professionale, economico e lavorativo. Vantaggi da persone molto più giovani o molto più grandi di te. Familiari potranno darti dei consigli sbagliati. Fai di testa tua. Inutile nascondersi nel proprio mondo fatto di sogni e voli pindarici, chiudersi in se stessi oggi, come sempre, non va bene. Particolarmente evitate ogni momento di solitudine. Per i single nati di martedì e venerdì si prospetta una giornata interessante, cercate di trarne profitto. Buone nuove per i nati di martedì, oggi Giove mostra il suo volto e tramuterà in successo tutto ciò che inizierete oggi. Attenti solo a borseggiatori e malintenzionati. Mettete da parte la vostra gelosia, accontanate ogni risentimento e guardate in faccia la realtà, solo così potreste scoprire che talvolta avete commesso anche voi degli errori. La tua capacità inventiva sarà al massimo. Un flerto o una nuova conquista. La luna oggi vi metterà i bastoni tra le ruote fino ad almeno il tardo pomeriggio, mettete in conto che l'aria che tira nel vostro ambiente non consente di esporsi più di tanto. Buone nuove in arrivo per posta o per telefono, qualche piccolo attimo di tensione in serata servirà a tenere alta la vostra attenzione sui problemi concreti che vi aspettano. Poche occasioni, ma giuste ed interessanti oggi. Lavorate di più e cercate di mettere da parte qualcosa, vi torneranno utili nei momenti difficili. Influssi benefici vi spianano la strada. La luna nel cancro per metà della giornata vi dona una luce di magnetismo per farvi valere, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 22 novembre. Mercoledì a due marce, splendida la mattinata, specie per i fan del mare, del nuoto, della vela, coccolati non solo dalla luna cancerina ma anche da Nettuno. Peccato che nel pomeriggio le cose si rivoltino, passando dai cuori alle picche, ad annunciarlo Urano all'opposizione, seguito a ruota dal passaggio lunare in Leone allo Zenit in quadratura al vostro segno e in conflitto col vostro astro guida Plutone che dall'acquario finge di pensare al futuro invece si riavvita sul passato. Amore ed Eros Coccole e parole d'amore, il partner sembra girarvi attorno come la luna fa col sole, ma poi, fulmine a ciel sereno, forse una mossa sbagliata o una frase infelice, vi fa cambiare umore ed espressione. Dal partner vi aspettate molto, ma attenti a non scambiare l'idea che attraverso le letture, il cinema, vi siete fatti dell'amore, chi vi cammina accanto non è l'attore di un film famoso né il protagonista di un romanzo celebre, per intendersi non chiama Lorenzo Tramaglino o Lucia Mondella, ma un essere da amare così com'è, con le sue luci e le sue ombre, le sue pecche e le sue virtù. Proprio come voi. È Saturno ad aprire le porte del vostro cuore a una storia d'amore nata da poco se siete nati nella seconda decade. E se siete nati nella terza decade con Nettuno che è pure in buon rapporto col vostro segno è possibile vivervi in questa prima parte del mese di settembre una relazione appassionata e romantica. Magari sulle ali dell'avventura. Lavoro e denaro. Giornata splendida per i veri viaggiatori, quelli che amano giostrarsi con le forze naturali, sentirsi pionieri, esploratori, come centinaia, migliaia di anni fa, la piccola isoletta per voi diventa l'arcipelago della Antille, la chiesetta di Ruta la piramide di Chichenizza con con accento acuto, la cappella in cima niente meno che il macu piccu, cosa non può fare la fantasia del mistero. Non resta che andare alla ricerca dell'arca perduta, magari sarete voi fortunati capaci di trovarla in qualche sito templare, fortunatamente ignoto è più. Tra le professioni artistiche che il vostro segno promuove, troviamo quella di registi cinematografici, scrittori di gialli e interpreti preferibilmente, a teatro, al cinema, in tv, di ruoli maledetti. Ma quali talenti si può giocare lo scorpione? Plutone, pianeta massiccio governatore del vostro segno, vi spinge positivamente a giocare il vostro talento attivo e creativo nella politica, arte in cui siete uno dei segni più in gamba. Il lavoro di avvocati penalisti, di assicuratori, di agenti di cambio, giocatori in borsa o professionisti dell'alta finanza, è collegato invece all'accoppiata tra Plutone e Mercurio, altro corpo celeste notevolmente in sintonia col vostro segno. Le speculazioni finanziarie che implichino un minimo di rischio, vi vedono nel vostro territorio privilegiato e sono appannaggio di un astro governatore, Marte. Benessere. In ottima forma per tutta la giornata, al mare vi godete un bagno chilometrico, in montagna scarpinate come bonatti, mentre in città, se appartenete alla schiera degli originali che il mese di settembre lo trascorrono tra vie e piazze ben note, giocando a fare i turisti e parlando inglese, oppure riuniscono la band degli stravaganti per una cena a casa propria, oggi correte da un supermercato all'altro a fare incetta di derrate. Per lei, malumore con i suoceri, ormai quasi guerra fredda, se ogni volta che tentate di aprire bocca saltano su contraddicendovi, finirete per comunicare col silenzio, quello almeno non prevede risposte. Per lui, buona idea approfittare di una parte delle ferie per risistemare casa, tinteggiarla o addirittura effettuare un trasloco. Purtroppo contrariamente a quanto previsto se ne andranno tutte le vacanze, ma almeno sarà fatta. Colore delle emozioni, verde bosco. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.